Di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo, la Caritas ha il difficile ma fondamentale compito di fare in modo che il servizio caritativo diventi impegno di ognuno di noi, cioè che l'intera comunità cristiana diventi soggetto di carità. Con queste parole Papa Francesco ha messo a fuoco la missione di Caritas Italiana, 45 anni dalla sua fondazione. Incontrando i partecipanti al convegno nazionale, il Pontifici ha enumerato le sfide globali che seminano paura, iniquità, speculazioni finanziarie, degrado ambientale e guerre, con particolare riguardo al fenomeno delle migrazioni che oggi presenta aspetti critici che vanno gestiti con politiche organiche e lungimiranti. Il Signore, che ci viene incontro nei volti e nelle storie delle sorelle e dei fratelli più bisognosi, aggiunto, bussa alla porta del nostro cuore, delle nostre comunità e attende che qualcuno risponda. Aspetta la carità, cioè la carezza misericordiosa del Signore, attraverso la mano della sua Chiesa. Di qui l'invito a superare la tentazione di una solidarietà corta e a promuovere una misericordia attenta e informata, personale ma anche comunitaria, responsabile e coordinata, anche grazie alla famiglia, la cui anima è l'amore. Vi incoraggio a non stancarvi, di promuovere con tenace e paziente perseveranza comunità che abbiano la passione per il dialogo, per vivere i conflitti in modo evangelico, senza negarli ma facendone occasioni di crescita, di riconsigliazione. Questa è la pace che Cristo ci ha conquistato e che noi siamo inviati a portare. Sia sempre, vostro vanto, la volontà di risalire alle cause della povertà per cercare di rimuoverle, lo sforzo di prevenire le marginazioni, di incidere sui meccanismi che generano ingiustizia, di operare contro ogni struttura di peccato.